Ultima ora. Un avvistamento di UFO ha sconvolto il mondo ancora una volta. Questa volta apparso nei cieli d'Italia. I testimoni sono rimasti scioccati quando strani luci sono apparse nel cielo notturno, suscitando curiosità e paura. Questo avvistamento del 2024, già soprannominato UFO Medusa per la sua forma inquietante simile a tentacoli, ha lasciato gli esperti alla ricerca di risposte. Potrebbe essere un altro segno di attività aliena? I testimoni descrivono lo UFO come luminoso, con una luce pulsante, che fluttua silenziosamente prima di sfrecciare nel cielo a velocità inimmaginabili. I filmati, ora di tendenza su Reddit UFO, mostrano ciò che molti credono possa essere un UFO reale. Questo avvistamento si aggiunge alla crescente lista di strani incontri nella regione, spingendo a un'impennata di rapporti su incidenti simili, tra cui avvistamenti di UAP, fenomeni aerei non identificati e oggetti inspiegabili vicino alle zone rurali italiane. Mentre gli esperti indagano, aumentano le speculazioni sul collegamento tra questo avvistamento e incidenti passati, come il famigerato incidente UFO di Roswell. Questi eventi potrebbero essere collegati o è solo un altro mistero nascosto sotto il velo del segreto? Resta sintonizzato su Cosmic Quests per ulteriori aggiornamenti, mentre esploriamo l'ignoto. Non dimenticare di iscriverti e farci sapere nei commenti cosa ne pensi. Siamo sull'orlo di scoprire la verità sugli UFO o questo è solo l'inizio di un mistero ancora più grande?